Rinascere a vita nuova, abbandonare l'uomo vecchio e insieme al figlio di Dio fatto bimbo vivere la gioia del Natale è l'augurio del Vescovo ai detenuti della casa di reclusione di Chiavari. Maria, modello di fede e di carità per vivere un Natale estroverso, il Papa L'Angelus ha invitato i fedeli a porre al centro delle feste il prossimo e a tendere la mano a chi ha bisogno. Natale è con noi, il 25 dicembre in diretta su Telepace, domani dalle 14.30 la trasmissione sarà dalla motovedetta della Guardia Costiera e con il Natale arriva in dono il nuovo canale 187. Lavagna ha celebrato il confuoco per la prima volta di mattina, il momento è stato animato dai sestieri, il priore ha augurato alla città di ripartire anche da Don Quairolo un desiderio di speranza per il 2019. La Virtus Antella batte 1-0 al comunale la Juventus 23, in rete il capitano Luca Nizzetto in campo, il giovane Mattia De Rigo classe 2001, mercoledì 26 il big match in trasferta contro la Carrarese. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi vigilia di Natale nella casa di reclusione di Chiavari dove questa mattina il Vescovo ha celebrato la messa per i detenuti. Con il figlio di Dio fatto bimbo è possibile rinascere a vita nuova e abbandonare l'uomo vecchio. Queste le sue parole, sentiamo. Che tutto quello che significa l'uomo vecchio sia annullato perché io possa essere un uomo nuovo. Ecco questa è la possibilità che ci viene ricordata con Natale. La tenderezza di Dio, il potere di cominciare. Questa sia per noi la gioia di oggi. Rinascere a vita nuova, abbandonare l'uomo vecchio e insieme al figlio di Dio fatto bambino vivere la gioia del Natale. È l'augurio che il Vescovo Dio Cesano ha lasciato in consegna ai detenuti della casa di reclusione di Chiavari. Monsignor Tanasini nella messa della vigilia celebrata questa mattina ha sottolineato come dalla nascita di Gesù ciascuno possa ritrovare il legame con il padre e affrontare le difficoltà della vita con amore, speranza e fiducia. Quella speranza che le persone carcerate nella struttura chiavarese provano a ricostruire ogni giorno, anche grazie all'aiuto dei responsabili del carcere e dei tanti volontari che in tanti modi assicurano una presenza di bene e di vicinanza. Ci sono le persone che svolgono volontariato attraverso la presenza costante da tantissimi anni della Caritas e le persone che svolgono volontariato anche attraverso altre associazioni e poi c'è una buona parte della società civile che collabora anche preziosamente offrendo lavoro alle persone detenute, per esempio tutte quelle che sono le istituzioni come i comuni o altre associazioni che possono dare possibilità lavorative svolgono un compito preziosissimo per chi è all'interno del carcere e può utilizzare il proprio tempo in un modo costruttivo per sé e per la società. Molti detenuti stamattina sono fuori e sono impegnati nelle loro ordinarie attività lavorative, il pensiero sicuramente è rivolto anche a loro, diciamo che ce la mettiamo davvero tutta per cercare di adempiere al nostro mandato istituzionale, alla nostra missione. Speriamo di riuscirci e speriamo che il prossimo anno sia un anno gioioso, sereno, proficuo e che porti anche dei buoni risultati sotto il profilo del reinserimento lavorativo delle persone detenute. Questa sera il Vescovo presiederà la Messa della Notte di Natale nella Cattedrale di Chiavari, la liturgia prenderà il via alle 23.15 e sarà trasmessa in diretta al Canale 15 di Telepace. Mentre domani mattina Monsignor Tanasini presiederà la Messa del Giorno di Natale, sempre dalla Cattedrale di Chiavari alle ore 10, anche in questo caso diretta TV su Telepace 1, Canale 15. E ora il Papa all'Angelus nella quarta domenica d'Avvento ha indicato in Maria l'esempio di fede e carità per un Natale estroverso. In queste feste ha chiesto Francesco al centro non ci sia il nostro io, ma il tu dei fratelli che hanno bisogno di una mano. La sintesi con la Radio Vaticana. Guardiamo a Maria, modello di fede e carità. La sua visita all'anziana cugina Elisabetta ci prepara a vivere bene il Natale. Un Natale estroverso nel quale al centro non ci sia il nostro io, ma il tu di Gesù e il tu dei fratelli, specialmente di quelli che hanno bisogno di una mano. Papa Francesco prima dell'Angelus rilegge il Vangelo della Visitazione proposto dalla liturgia di questa quarta domenica di Avvento e spiega che lo Spirito Santo dà alla Vergine il dinamismo della fede e della carità e la porta ad accorrere al servizio dell'anziana parente. Un dinamismo che opera dello Spirito Santo, lo Spirito d'amore che fecondò il grembo virginale di Maria e che la spinse ad accorrere al servizio dell'anziana parente. Un dinamismo pieno di gioia come si vede nell'incontro tra le due madri. Che, commenta ancora il Pontefice, è tutto un inno di gioiosa esultanza nel Signore che compie grandi cose con i piccoli che si fidano di Lui. La Vergine Maria ci ottenga la grazia di vivere un Natale estroverso, ma non disperso, estroverso. Al centro non ci sia il nostro io, ma il tu di Gesù e il tu dei fratelli, specialmente di quelli che hanno bisogno di una mano. Allora lasceremo lo spazio all'amore che anche oggi vuole farsi carne e venire ad abitare in mezzo a noi. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ricorda il Natale ormai alle porte. Il mio pensiero scandisce, va in particolare alle famiglie che in questi giorni si ricongiungono. Ma, sottolinea ancora Francesco, tante persone non hanno questa possibilità. Oggi vorrei rivolgermi in modo particolare a tutti coloro che sono lontano dalla loro famiglia e dalla loro terra. Cari fratelli e sorelle, il nostro Padre Celeste non vi dimentica e non vi abbandona. Se siete cristiani, vi auguro di trovare nella Chiesa una vera famiglia dove sperimentare il calore dell'amore fraterno. E a tutti che sono lontani dalla loro famiglia, cristiani e non cristiani, dico, le porte della comunità cristiana sono aperte. Gesù nasce per tutti e dona a tutti l'amore di Dio. Come tradizione, domani pomeriggio la nostra emittente trasmetterà in diretta il Natale con noi, uno spazio per offrire compagnia ai nostri telespettatori. E quest'anno la trasmissione avrà una connotazione particolare. Sentiamo il nostro direttore. Cari amici, sono a farvi i migliori auguri di Natale da parte di tutta Telepace. E nell'occasione degli auguri di Natale vi invito anche alla trasmissione che domani faremo nella giornata di Natale e nostra consuetudine il pomeriggio di Natale viverlo insieme, Natale insieme. Quest'anno vivremo il giorno del Natale insieme attraversando il Golfo del Tiguglio con la motovedetta della Guardia Costiera. Andremo nei luoghi che sono stati colpiti dal Fortunale che è accaduto in questo ultimo scorcio di autunno e che ha devastato in modo particolare Santa Margherita e Rapallo, ma poi ha lasciato il segno su tutta la costa. E allora andremo a visitare questi luoghi per dare un segno di prossimità, di vicinanza a chi è stato colpito da questo, ma anche per vedere già i segni della ripresa. l'avvio di tutta una serie di attività che vogliono ridare speranza al territorio. Nel giorno in cui il Signore nasce per noi, per dare la speranza eterna all'uomo, lui che ha scelto di farsi uomo come noi, vogliamo dedicare al nostro Golfo del Tiguglio la nostra trasmissione. Allora vi invito a seguirlo nella giornata di Natale a partire dalle 14.30, partiremo dal Porto di Chiavari, andremo a Portofino, Santa Margherita, Rapallo e poi Sestri Levante. E la seconda cosa che volevo dirvi nella vigilia di Natale è l'invito a seguire fra 4 giorni la nascita di un nuovo canale della nostra emittente. Sul canale 187 fin da ora vedete un'immagine che dice stiamo arrivando. Dal giorno 28 partirà un canale nuovo di informazione, Telepace News, sul canale 187 per tutto il giorno, 24 ore al giorno avrete informazioni, notizie, aggiornamenti sul nostro territorio, sulla vita della Chiesa, sulle notizie più importanti del mondo. E allora avremo modo di riparlarne, ci sarà un nuovo canale da cercare tra quelli di Telepace, e ci sarà il 187. Vi auguro buon Natale da parte di tutto lo staff della nostra emittente e gli auguri ce li faremo ancora in diretta il giorno di Natale a partire dalle 14.30, qua su Telepace 1. Natale in autobus nel Tiguglio occidentale. ATP effettuerà un servizio di navetta tra Rapallo, Santa Margherita, Ligure e Portofino. Una decisione che va incontro alle richieste degli amministratori locali e al desiderio di rilanciare il territorio colpito dalla mareggiata di fine ottobre e reso possibile grazie alla disponibilità dei lavoratori. La prima corsa, la linea 77A, partirà dalla zona del casello autostradale di Rapallo, proseguirà su Via Mameli fino alla stazione e poi arriverà fino alla stazione ferroviaria di Santa Margherita, Ligure. Di qui sarà a disposizione la seconda navetta per Portofino, sino alla Cervara, con coincidenza dall'altra parte della passerella. I passeggeri la percorreranno a piedi fino a Paraggi. Sulla linea 82, invece, è necessario munirsi del Portofino Pass, un ticket di sola andata da 3 euro e 5 euro per andata e ritorno. La combinazione tra festività, primi casi di influenza e flusso turistico sarà gestita quest'anno con l'apertura straordinaria di alcuni studi di medici di medicina generale. È un'iniziativa che vede coinvolta anche la nostra SL4. Un primo picco dell'epidemia influenzale, infatti, è previsto proprio nel periodo di Natale e così, per limitare gli accessi al pronto soccorso, l'azienda sanitaria ha attivato un progetto straordinario in accordo con i medici di medicina generale. Hanno aderito alle aperture straordinarie tre studi nel distretto di Rapallo, 22 in quello di Chiavari, che comprende anche il suo introterra, 11 in quello di Sestri-Levante. Le aperture straordinarie, oltre alla giornata di oggi, saranno in vigore anche in quella del 31 di dicembre. Continuiamo a parlare del Natale, il cammino di avvicinamento a questa data, coinvolto anche il villaggio del ragazzo. Vediamo. In questo tempo di avvicinamento a Natale sono stati diversi i momenti di comunità vissuti dalle diverse realtà che compongono le anime del villaggio del ragazzo. Dai ragazzi delle scuole agli anziani del Benedetto Acquarone, passando per i disabili, i volontari delle lampade ardenti e gli stranieri, l'attesa della venuta di Gesù è stata celebrata nel segno della comunità e della condivisione. A dare il via agli appuntamenti natalizi, la Santa Messa e il pranzo di fraternità al centro Benedetto Acquarone, il giorno di Santa Lucia. Abbiamo iniziato a dirci che Natale è una gran bella cosa, perché Gesù ci prende per mano, sta con noi e prende su di sé tutte le nostre fatiche, le nostre miserie e con la sua presenza ci dona il coraggio della gioia, della festa. Il Natale è stato festeggiato anche nei locali della scuola alberghiera, recentemente passata sotto la responsabilità del villaggio del ragazzo, realtà per la quale la formazione resta uno dei cardini della sua attività e non poteva mancare la celebrazione della natività anche con gli allievi della formazione professionale. È un'occasione per me per incontrare ragazzi, ma anche per loro forse di ascoltare qualcosa che normalmente non ascoltano, che non riescono a intercettare nella loro quotidianità. Poi è anche un momento importante poter anche dare due parole sul valore della formazione che qua si vive al villaggio del ragazzo, proprio come propedeutica al mondo del lavoro, perché forse qua più da vicino che da altre parti si parla di più del mondo del lavoro e quindi davvero aiutarli anche a non avere l'ansia del domani, dell'essere introdotti nel mondo del lavoro, di quello che oggi si sente come sempre un po' precario, un po' difficile, sempre un po' come dire di grandi prestazioni, ma cercare che loro attraverso questa formazione possano cercare di realizzare i loro sogni, ma soprattutto avere sempre in mente che al centro del lavoro ci sono loro, cioè la loro vita e non semplicemente una prestazione per avere un contraccambio come in denaro, ma come il modo in cui loro possono realizzare la loro vita e la loro felicità. Ora andiamo a Lavagna, la città celebrato il tradizionale confuoco sul piazzale davanti alla Basilica di Santo Stefano. Il momento è stato animato dai sestieri, siamo andati a vedere. Vedere finalmente ripartire Lavagna e festeggiare il settantesimo della torta dei Fieschi sono i desideri per la città da parte dei sestieri che ieri hanno portato il confuoco nella piazza della Basilica. Per la prima volta di mattina musici e sbandieratori hanno dato spettacolo davanti a numerose persone. Nel suo discorso il priore ha invitato Lavagna a rialzarsi dopo questi anni di difficoltà. Ha bisogno di riappropriarsi della sua città, tanto di riprendere anche e soprattutto la speranza. Perché secondo me, adesso parlo anche come cittadina, mi rendo conto che regna un po' lo sconforto in tutte le cose. E quindi secondo me proprio ripartendo dalla storia, dalla tradizione della nostra città e dalla sua bellezza che è declinata in tantissime forme, ripartendo da qua secondo me si porterà veramente a ripartire. Dopodiché si è svolta la tradizionale accensione dell'alloro. Anche Don Stefano Queirolo ha augurato a Lavagna un nuovo corso, paragonando l'attuale situazione di stallo alla presenza del famigerato punteruolo rosso, il coleottero killer delle palme. Vorrei spifferi di speranza, non sarà un vento impetuoso, ma spifferi di speranza, vorrei augurarli a tutti. Spifferi di speranza, se li mettiamo tutti insieme, il punteruolo rosso del pessimismo va a farsi benedire. Auguri! Grazie a tutti. Il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre alle 19.15, Telepace trasmetterà invece il concerto di Natale animato dai bambini della scuola elementare Crocetta di Leivi e dal coro interparrocchiale Leivi Camposasco. Un ampio repertorio che spazia dalla tradizione natalizia fino a brani di musica classica. Ne vediamo in anticipazione. Vedendo tutti quei bimbi dicevi che questa sera è proprio una benedizione. La sensazione che ho avuto io è stata questa, quella di essere benedetti, questa sera dalla presenza di tanti bimbi, perché loro sono la vita, sono la speranza, sono anche il futuro nostro, il presente nostro. Mi sembrava bello rimarcarla questa cosa. È stato un momento di benedizione, intanto perché hanno condiviso una cosa bella che è il canto, l'hanno preparata e l'hanno condivisa con noi. E poi c'era veramente la gioia della vita che sprizzava proprio dai loro occhi, dalle loro voci e dal loro cuore. E poi è stato bello anche il momento vissuto insieme col coro interparrocchiale che si è armonizzato molto bene anche con i bimbi, insomma certamente con stili di canti diversi, ma tutte e due con molta bellezza condivisa. Una serata dove la musica ha unito i piccoli e i grandi. È veramente, come ha detto anche il sindaco, una cosa bellissima. L'unione fra tante parole e le nostre parrocchie hanno secondo me portato a un risultato più che evidente. Il repertorio è stato vario, anche quello dei bimbi. Sì, sono state innumerevoli canzoni, tutte godibilissime, e cantate con spirito giusto dei bambini. A cominciare dalla bellissima voce bianca che abbiamo potuto sentire. Sì, sono state innumerevoli canzoni, tutte le nostre parrocchie hanno potuto sentire. Controlli dei carabinieri in questo periodo di Natale, in particolar modo durante un servizio nei luoghi di ritrovo, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso due stranieri di 47-50 anni, pregiudicati perché trovati in possesso di numerosi generi alimentari che avevano rubato poco prima. E poi un uomo di Genova di 54 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali al termine di una lite per motivi legati al traffico. In questa circostanza ha colpito un'altra persona e dunque la patente gli è stata ritirata. Nell'ambito dello stesso servizio i militari di Chiavari hanno denunciato un 25enne straniero, privo del permesso di soggiorno, un 21enne di Zoagli per disturbo della quiete, e un 25enne di Levi per guida in stato di ebbrezza. I soci della sezione Chiavarese dell'Unione Nazionale Ufficiale in Congedo d'Italia hanno sancito il passaggio di consegne tra il precedente presidente di sezione Alessandro Vigiani e il nuovo Alberto Baudà. Nell'occasione il delegato regionale e il presidente della sezione Unucci di Genova, Mario Merello, ha consegnato al presidente Vigiani una targa per l'attività svolta e un attestato di benemerenza. Cambiamo tema, sarà un Natale all'insegna del bel tempo e delle temperature al di sopra della media. Queste le previsioni per i prossimi giorni da parte degli esperti meteo del centro Meteo Ligure che rinnovano l'invito a sostenere l'associazione regalando un calendario per il 2019. Sentiamo. Sarà un Natale all'insegna del clima se non proprio mite, certamente poco invernale. In queste ultime ore infatti le temperature hanno fatto registrare valori ben al di sopra della media con la poca neve caduta in precedenza, ormai quasi del tutto sciolta anche in quota. Con l'ingresso della tramontana, con raffiche addirittura oltre i 100 km orari sui crinali e allo sbocco delle valli del Levante Ligure, ci si aspetta per domani una bella giornata di sole con colori accesi e temperature, seppur più basse di quelle odierne, di poco superiori alla media. Anche il giorno di Santo Stefano la Liguria resterà sotto l'influsso dell'anticiclone che protegge l'intera Europa. Poche emozioni dal punto di vista meteorologico dunque, almeno sul fronte delle precipitazioni. Per chi volesse comunque gustarsi uno scenario innevato o un tramonto acceso, almeno in foto è possibile farlo sulle pagine del calendario dell'Associazione Ligure di Meteorologia, che ritorna quest'anno con una pubblicazione che è un veicolo di promozione e di raccolta fondi per sostenerne l'attività. Non è un prodotto che si vende, ma è dietro una donazione liberale che va come contributo minimo sui 10 euro, perché ovviamente c'è stato il costo di produzione, ma più che altro è un modo per sostenere l'associazione, quindi fa parte di una raccolta fondi. È un calendario tematico, ovviamente ci sono degli scatti molto belli di qualità che riguardano il nostro microclima. A differenza dell'edizione passata, sono scatti fatti da molti utenti che ci seguono su Instagram, i cosiddetti follower, che hanno partecipato a un contest in primavera e i vincitori delle foto del mese hanno avuto la pubblicazione gratuita su questo calendario. Altre novità rispetto alla passata edizione sono i contenuti metodidattici, quindi delle spiegazioni semplici con delle pillole di meteorologia, sempre di fenomeni tipici, caratteristici del nostro luogo, Liguri, e anche una sorta di archivio degli eventi più significativi a livello meteo, come mareggiate temporali e alluvioni che hanno interessato il nostro territorio nel secolo scorso. Un progetto che ha visto la collaborazione di tante persone. Festeggiano oggi 60 anni di matrimonio Adriano e Angela Podestà che vivono a Rivarola di Carasco. Entrambi originari della frazione collinare di Paggi, sempre a Carasco, si sono sposati nella locale chiesa parrocchiale intitolata San Nicolò, la vigilia del Natale del 1958 e da allora hanno trascorso la loro vita insieme. Adriano è nato il 19 marzo del 1938, dopo aver esercitato qualche anno l'attività di falegname a Lavagna, ha prestato il proprio impegno come operaio meccanico in varie ditte della zona sino alla pensione. Per anni è stato anche impegnato nell'amministrazione del suo comune come assessore a fianco dello storico sindaco Luigi Bacigalupo. Angela, nata il 25 maggio del 1939, invece si è occupata prevalentemente della cura della famiglia, dedicandosi anche ai campi, in particolare alla coltivazione degli ulivi. Hanno avuto due figlie, Giancarla e Marina, che oggi insieme ai mariti Mario e Lorenzo e ai cinque nipoti Dario, Andrea, Francesco, Luigi e Angela saranno loro vicini in questa lieta ricorrenza. Agli sposi, naturalmente, gli auguri da parte di tutto lo staff di Telepace, li avete visti anche nella foto. Sfogliamo ora l'agenda di Telepace, vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per i prossimi giorni, poi ci ritroviamo con lo sport. Appuntamenti in agenda per mercoledì 26 dicembre. Cimento invernale di Santo Stefano, sulla spiaggia di Riva Trigoso, Sestri Levante, il Tuffo in acqua sarà alle 10.30. Apertura straordinaria del Museo del Videogioco e del Polimuseo del Giocattolo e della Civiltà Contadina di Gattorna di Moconesi. L'ingresso è gratuito, sarà dalle 15.30 alle 19.00. Al Cinema Ariston, di Sestri Levante, alle 16.00, l'orchestra filarmonica cittadina propone il concerto di Natale. Per la rassegna dicembre in musica, alle 17.00, all'auditorio San Francesco di Chiavari, la filarmonica città di Chiavari, proporà il concerto Rossini e l'opera italiana nell'Ottocento. Appuntamenti in agenda per giovedì 27 dicembre. Zoagli ricorderà i caduti del bombardamento del 1943. Alle 11.00, la Santa Messa, nella chiesa parocchiale di San Martino, seguirà la deposizione delle corone di alloro alle lapidi di piazza 27 dicembre e all'interno del Palazzo Comunale. Caccia al tesoro con merenda finale a Palazzo Fascia di Sestri Levante, appuntamento alle 15.00, iniziativa a cura del lapter. Il grande gospel sbarca nella riviera di Levante. Alle 21.00, nella sala Agave dell'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante, si terrà lo spettacolo Heart and Soul of Gospel, progetto realizzato nel 2015 da Jerome Griffin. Sempre alle 21.00, nella chiesa di San Giacomo di Corte, a Santa Margherita Ligure, la Società dei Concerti Genova presenta la Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini, dirige il maestro Pierluigi Rosso. Anche il mondo dello sport è stato colpito dall'ammareggiata di fine ottobre. Tra le località liguri più coinvolte c'è il quartiere genovese di Sturla, dove la locale società di pallanuoto, la polisportiva Sturla, ha avuto la sede pressoché distrutta. Per sostenere questa società, la chiave di nuoto ha deciso di mettere in vendita le cuffie che recano il marchio Genova nel cuore, nell'ambito della tradizionale manifestazione di acquagym che si tiene prima dell'inizio delle festività natalizie. La cuffia, commercializzata con il sostegno della Federazione Italiana Nuoto, viene venduta con l'obiettivo di raccogliere offerte per gli sfollati del ponte Morandi. La chiave di nuoto le ha vendute ai propri 1.200 iscritti. Calcio, la Serie C, la Virtus Entele è tornata alla vittoria battendo al comunale la Juventus 23. Ce ne parla Nicola Pagliettini. I ragazzi di Mister Boscaglia volevano fortemente tornare al successo davanti ai propri tifosi. Lo hanno fatto con una buona prestazione. Lentella ha avuto un approccio positivo alla partita, creando subito occasioni da gol nei primi minuti e sbloccando la contesa al dodicesimo grazie al gol del solito capitano Luca Anizzetto. I biancocelesti hanno continuato ad attaccare, hanno segnato ancora la mezz'ora competizionale. Il gol però è stato annullato. Nella ripresa la Juve ha provato a scuotersi, a alzare il proprio baricentro senza tuttavia creare grossi problemi alla porta difesa da Massolo. Grande vittoria perché è una vittoria voluta, giocata in un certo modo la partita così come lo volevo non solamente dal punto di vista tecnico-tattico ma soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento aggressivo. Era quello che desideravo. L'approccio è stato abbastanza feroce dal punto di vista sia fisico ma anche tattico. Siamo andati a prenderli altissimi, li abbiamo fatti sbagliare tantissimo. Nel secondo il canovaccio è stato sempre uguale ma naturalmente col passare dei minuti c'è un po' di stanchezza. la squadra tendeva ad allungarsi di tanto in tanto. Loro qualche ripartenza l'hanno fatta e c'è stato un tiro molto molto pericoloso che è stato sventato benissimo da Massolo ma poi noi abbiamo avuto veramente tante altre occasioni per chiudere la partita. Volevate fortemente questo risultato? Volevamo tornare a vincere in casa dopo aver perso con la Propatria e comunque aver fatto una gran partita ad Arezzo. Sono punti pesanti anche vedendo un po' i risultati delle altre squadre. penso che questi tre punti sono fondamentali e ci aiutano ad affrontare una partita difficile come quella di Carrara. Mattia, il tuo debutto tra i professionisti, cosa hai pensato quando il mister ti ha detto di entrare? Diciamo che subito appena mi ha mandato a scaldare ero molto emozionato e contento. È una grande opportunità per me e comunque giocare con la prima squadra è il sogno di chiunque e quindi sfrutto al massimo queste opportunità e cerco di dare il massimo. Ora i risultati della Serie D. Girone A si è giocata la diciassettesima giornata del campionato. Il match tra Prodoronero e Lavagnese è stato rinviato per la presenza di Ghiaccio in una porzione del campo da gioco. La decisione è stata presa dalla terna arbitrale dopo il sopralluogo con i capitani di entrambe le squadre. Al Sivori invece Sestri Levante Bra è finita in parità 0 a 0. I soci del Circolo Genoa Club Ugo Vignale di Lavagna hanno offerto una giornata di festa ai bambini dell'Istituto Divina Provvidenza Corde Viola di Lavagna. Nella sede del Circolo si è svolto un pranzo con la distribuzione di doni e soprattutto di grandi sorrisi da parte dei piccoli ospiti. Oltre ai regali sono stati distribuiti i buoni acquisto per vestiario. Il gesto di solidarietà che per i soci si sposa con la passione per lo sport, in particolare per il calcio, è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei commercianti lavagnesi. Il comitato del CONI della Liguria ha consegnato la stella d'oro al merito sportivo alla chiava di scherma. Il riconoscimento è stato consegnato in considerazione degli oltre 50 anni di storia sportiva costellati da numerosi successi. Il presidente Nicola Orecchia ha espresso soddisfazione ricordando l'impegno degli atleti, dei maestri, dei presidenti e dei consigli direttivi che si sono avvicendati nel corso degli anni. E ha espresso particolare gratitudine al maestro Giovanni Falcini per la sua instancabile attività, non soltanto sportiva ma anche organizzativa. Nell'ambito della stessa manifestazione inoltre è stata consegnata la medaglia di bronzo al valore atletico a Simone Mangiante, atleta dell'Associazione Sportiva Centro Studi Discipline Orientali di Lavagna. Il riconoscimento è stato assegnato per i risultati ottenuti nel 2017 ai campionati europei in Georgia. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera alle 23.15 la messa del Vescovo della Vigilia di Natale, domani mattina invece alle ore 10. Entrambe le celebrazioni in diretta dalla Cattedrale di Chiavari sul canale 15 di Telepace. Per quanto riguarda l'informazione locale invece ci ritroviamo giovedì 27 dicembre. Grazie per averci seguito, buon Natale a tutti da trascorrere con le vostre famiglie. A presto.